Indubbiamente per la montagna è stata una brutta cosa e credo che per un po' di giorni si sentirà anche questa atmosfera sicuramente non positiva. Io ho dormito qui queste notti come faccio sempre d'estate e per me essere così vicino al luogo della tragedia mi ha sicuramente colpito molto. Ripeto ci sono abituato agli incidenti della montagna ma questa è stata una cosa un po' più grossa proprio perché è imprevedibile anche per le vittime che ha lasciato sul campo. Una cosa che posso dire è avvenuta sul mio territorio che ho condiviso è stata la chiusura per un paio di giorni della funivia della Marmolada per evitare che il turismo curioso arrivasse in cima e potesse fotografare o comunque riprendere le operazioni di soccorso. La funivia è riaperto, i primi due tronconi sono fruibili, si può arrivare fino alla punta Serauta, siamo a 3000 metri, lontani comunque dal punto del crollo in una zona che non ha niente a che vedere con quella parte di ghiacciaio collassato. È ovvio che questi cambiamenti climatici ci inducono a una maggiore attenzione un po' ovunque. L'importante adesso è che deve passare il messaggio che la Marmolada è fruibile, tutto attorno, la Marmolada è grande, è una montagna che ha svariati sentieri, svariate vallate e tutto quello che ruota attorno alla Marmolada è fruibile. Lascerei indubbiamente in questo momento un discorso a parte per quello che è il ghiacciaio della Marmolada, il ghiacciaio vero e proprio perché dopo una cosa del genere è comprensibile che sul ghiacciaio è meglio in questo momento non andarci, anche se le temperature sono indubbiamente cambiate, già adesso fa più freddo dell'altro giorno, però la strada del Passo Fedai, a Malga Ciappela, il Pian Trevisan, la Val Contrin, la Valle Ombretta, il Monte Padon qua di fronte sono fruibili come prima, il turista giocoforza può continuare a divertirsi sulle nostre montagne perché il messaggio deve essere quello sì dell'attenzione ma anche di una certa tranquillità. Indubbiamente per la Marmolada è stata una cosa molto brutta perché gli incidenti sulla Marmolada ci sono, ci sono da sempre, io li ho visti da quando sono bambino, da quando ero bambino ho visto purtroppo tanta gente che ci ha lasciato la vita su questa montagna perché è pur sempre una montagna alpinistica ed è una montagna che presenta tutte le difficoltà delle montagne più grandi, del Monte Bianco, del Monte Rosa, dell'Adamello, il ghiacciare della Marmolada pur essendo più piccolo ha i crepacci, i serracchi e bisogna essere attrezzati e sapere esattamente cosa si fa. Questa gente purtroppo ha avuto la sventura di trovarsi nel momento sbagliato al posto sbagliato perché era gente attrezzata, era gente esperta, c'erano anche delle guide alpine quindi non va imputato niente a loro per un fatto che è assolutamente imprevedibile, era assolutamente imprevedibile, nessuno poteva pensare una cosa del genere. Nel 1916 in un'area proprio qua vicino un accampamento austriaco intero è stato portato via da una valanga che ha causato 350 morti, appena qua sotto verso Roccapietore un accampamento italiano in due valanghe diverse ha creato anche lì 200 e oltre morti, questo significa che la montagna ha delle particolarità, delle peculiarità che bisognerebbe assolutamente tenere presente. Quegli eventi sono stati causati dalla troppa neve, adesso stiamo parlando di un fenomeno completamente forte. Esattamente, anche se nonostante il cambiamento climatico è importante, ci sono gli anni in cui nevica veramente poco ma ci sono stati anni recentemente, mi viene in mente il 2014 dove neve ne ha fatta davvero tanta e lì si è ripercorso il 1916 che è stato probabilmente l'anno più nevoso del secolo, il 2014 grandissime nevicate, il 2021 poche, l'inverno 2021-2022 è stato molto, ha nevicato un po' all'inizio e poi veramente poco. Questo ha comportato un peggioramento della situazione del ghiacciaio e l'estate così calda che mi viene in mente, una estate simile a questa è stata il 2003 per esempio, questa è molto simile al 2003 quando ricordo benissimo 20 anni fa il ghiacciaio era ridotto molto molto male e già dava dei segni veramente incredibili di ritiro. Ritiro che però, non dimentichiamo, è cominciato attorno al 1850, dal 1850 in poi è stato un ritiro progressivo del ghiacciaio della Marmorata quindi stiamo parlando di 170 anni di regresso e adesso siamo in minimi termini indubbiamente perché penso che se facesse 10 estate come sta facendo di ghiacciaio non se ne parla più. Grazie.